Covid-19 in Sicilia, 1.122 nuovi positivi, 28 morti, 615 guariti. A Siracusa 107 casi. Nell'isola sono 1.122 nuovi positivi su 7.497 tamponi processati. Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.420 dall'inizio della pandemia. Nell'ambito delle province Catania 312, Palermo 223, Messina 171, Trapani 129, Siracusa 107, Agrigento 63, Caltanissetta 55, Iracusa 54, Enna 1. I positivi sono 34.347 con un aumento di 479 attuali positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.249, 9 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in Reggio Mardinario sono 1.073, 4 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva 176, 5 in più rispetto a ieri. I guariti sono 615.